Grazie a Paolo De Castro e complimenti per essere riuscito a definire così chiaramente la posizione del Parlamento in così breve tempo su tanti punti, chiaramente anche i relatori Ombra possono prendere la parola adesso e quindi Anna Sander per il PPM, prego due minuti. Ringrazio Paolo De Castro così come gli altri colleghi relatori Ombra perché grazie all'eccellente collaborazione fra tutti noi e anche con la presidenza tedesca siamo riusciti a ottenere in tempi record fondi disponibili a partire dal 2021 ma anche per il 2022. Grazie a Paolo De Castro e a tutti i colleghi per questo esercizio così complesso e importante. Credo che ci dobbiamo davvero congratulare per avere il risultato portato a casa in tempi rapidi che ci consentono di arrivare al trilogo sul regolamento di transizioni. Ringrazio l'onorevole De Castro e tutto il suo staff come anche il mio per il lavoro svolto per portare a termine questo pacchetto così importante per l'agricoltura. Anche io desidero ringraziare l'onorevole De Castro per aver condotto al meglio e in porto il negoziato con un ottimo risultato malgrado il fatto che il consiglio avesse tentato di portare a risultati ben diversi. Grazie Presidente, grazie al relatore all'onorevole De Castro per il modo fantastico in cui ha condotto questo negoziato per l'ottima cooperazione in pochissimo tempo è riuscito a far ottenere un risultato incredibile. Più euro, più fondi disponibili per l'agricoltura nel 2021 e nel 2022. Insomma, in breve, ottimo pacchetto. Credo che aiuti veramente gli agricoltori dei nostri stati membri. di nuovo, grazie al relatore per il suo contributo e per tutto quanto ha fatto. Grazie, veramente. Elsie Kataina, la relatrice per il regolamento di transizione. Do a lei la facoltà. Grazie, Presidente. Prima di avermi ringraziato a ringraziare il signor De Castro e il tuo negoziato team. Ringrazio e ringrazio l'onorevole De Castro naturalmente per questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.